Ciao! Ciao mamma, ti racconto qualcosa. C'è una valle dove rendono goloso del soffice pan di spagna con una morbida crema e tanto cioccolato Milka. Quello che nasce così buono che scompare subito. Pember, il più tenero degli snack. E mamma, sai che oggi ci sono i fantastici regali Milka Land? La tazza, il morbidissimo peluche e tanti altri bellissimi regali. Mamma, raccogliamo i punti Milka Land. Da Milka, il lilla che invoglia.